Tutti insieme a passeggio di corsa per aiutare gli animali in difficoltà. Si chiamava Running for a Claus, l'iniziativa organizzata sulle mura urbane di Lucca dall'Associazione Battito Animale insieme ai volontari del canile di Pontetetto. Una corsa in pieno stile natalizio al fianco del proprio amico a quattro zampe che ha riscosso l'adesione di oltre 300 persone. Noi siamo un'associazione animalista lucchese che si occupa del recupero, della cura e dell'adozione di tutti gli animali abbandonati. Noi abbiamo deciso di portare questa iniziativa a Lucca iniziando ad aiutare gli animali. Si tratta di una corsa non competitiva dove ognuno di noi indossa un elemento natalizio, si corre e si cammina e il ricavato va agli animali che aiutano a Battito Animale e Battito Animale a sua volta ha deciso di fare questo evento in collaborazione con il canile di Pontetetto che è gestito dall'empa di Lucca. Quindi noi a nostra volta daremo una parte del ricavato anche all'empa di Lucca per aiutare anche i cani del canile che comunque sono tanti, sono numerosi e hanno assolutamente bisogno di essere aiutati e di trovare una famiglia. Lui e Tonio è uno dei tanti ospiti del canile di Pontetetto, è il più enziano ma è un coccolone e sta cercando una famiglia perché il nostro obiettivo di questa manifestazione oggi è anche sensibilizzare l'adozione dei cani anziani perché non hanno niente di meno di un cucciolo e anche loro si meritano di passare un Natale al caldo in famiglia. Tonio, di Buon Natale a tutti!